dai che io ti seguo ti sto riprendendo il più piccolino dei leoni dai forza però bene non metti giù i piedi nell'acqua 3 dai dai che ce la fai tanto arriva anche il posto dai dai passa di qua che ci passi dai passa di lì vai bravo grande che pastato è tutto ma non è un po' di più non è un po' di più Grazie a tutti. Ti avrei scommesso che facevi quel lavoro lì. A posto. Pazzoletto? E' tuo? No. Ma non sto filmando. No, no. Non ti conosco. Da qua devi filmare. Dai, così. Dopo ti faccio una foto così. Dov'è il pilota? Cos'è fermata? Cos'è fermata? Fai il giro. Ti faccio un po'. Ti faccio un po'. Vedi le facce che fanno te. Oh, figa. Ma venite sui, io cario. Vi fermate lì, cazzo. Ti faccio un po'. Vare al gatto, vare al gatto. Ti avvincio. Vare al gatto. Vare al gatto. Sei girato. Sei girato. Sei girato. Colpa mia. Sei girato. Ma guardate. Sei girato. Che li fa? Non sto neanche visto, eh. Non sto neanche visto dentro. Ero dietro ma ti ho visto già in terra. Il sasso è l'unica cosa. Il sasso è l'unica cosa. Che succede? È caduto. Vedi io ti devo salvare. Ma tu non aiutare, eh. E come faccio? Ero qua seduto, scusami. Ma sei pure via. Se sei a posto adesso mi alzo e vengo a aiutarti. Sono a posto, sono a posto. Basta. Allora la moto ruzzala che va giù fino al panò e basta. Ma hai qua incastrato. Fai prima a farla scendere fino a là. Eh ma è incastrata qua. Dagli un calcio come fa Spampi. Vedi? Occhio al parafango. Ma cosa fai? Davvero la butti giù? E cosa devi fare? No. Tira lassù. Ma sei fuori. Aspetta. La butti via. Se va giù di lì. No, no. Aspetta eh. Aspetta che tiro. Vai. Aiuto. Aspetta. Aspetta che tiro. Aspetta bravo. È meglio tirarla su o laggiù di piano? No. Tirarla su. Tirarla su. Ormai stai anch'io. La marcia. La marcia la tiriamo fuori. 3. 2. 1. Vai. Vai ancora. 1. 3. Aspetta eh. Aspetta. 1. 2. 3. Vai. Non è sempre Roberto che in mezzo? Aspetta che io qua. Aspetta non c'è. Devi così correre prima che fai i numeri che fa lui. Non hai neanche un'idea. Eh? I numeri che fa Lele. I numeri che fa Lele. È professionista le ragazze. Ma ero quasi... Io ho dato giù perché ti ho visto a te. Chiudo? Il culo eh. Ah beh sì. Chiudo mai. via. Esatto. E' andato nella jacuzzi, è andato nella jacuzzi. Pietro tira via quel ramo qua se ci arrivi bravo oh meglio è andato nella jacuzzi no 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 di là a sinistra no la griglia non fidarti perché non so come è lì aiaiaiaiaiaiaiaiai a sinistra sottotitoli a fine a fine a fine a fine Grazie a tutti che verso che versaccio che hai fatto che versaccio che hai fatto e ma io si è